Lorenzo Mariotti dopo una bellissima prima prestazione è arrivato un passo indietro contro Saronno, ve lo aspettavate, come lo avete vissuto? Ma allora diciamo che sapevamo che erano bravi a giocare sicuramente, non ce l'aspettavamo di perdere un 3-0 così netto, più che altro dovuto tanti errori nostri a livello di gioco che si alternava momenti buoni, momenti meno buoni, loro sicuramente sono una buona squadra, ci hanno messo in difficoltà il secondo set in particolare, noi non siamo proprio entrati in campo e sicuramente ci sarà da prendere spunto da questo blackout che abbiamo avuto e da lavorarci in settimana. Anche perché questo weekend arriva una sfida difficilissima, sulla carta contro Malnate che partita vi aspettate? Allora sicuramente se Saronno erano bravi questi sono forti, sicuramente sarà una partita dove qua dentro non sarà facile vincere per loro perché abbiamo un pubblico, perché siamo abituati a giocare in questa palestra e sicuramente dobbiamo trarre di positivo quello che abbiamo fatto a Saronno in alcuni frangenti e cercare di tenere questo livello qua contro di loro perché se siamo a questo livello va a finire peggio che con Saronno secondo me a livello di parziali, quindi dobbiamo rimanere concentrati e lucidi e ne abbiamo le capacità per farlo.